Musica Allora è bellissimo tornare in Italia per questo progetto straordinario C'è pieno di ragazzi super entusiasti Stiamo lavorando questi tre giorni con il quintetto d'Ottoni Con il gruppo grande d'Ottoni, con il decimino Vedere questa energia, questa carica è speciale In un luogo meraviglioso, siamo a Monopoli in Puglia Devo dire grazie a Teresa e a tutta l'associazione I ragazzi che lavorano in l'associazione di orchestra academy Un progetto fantastico Con tanti talenti straordinari, con tanto entusiasmo e con tanta voglia di fare bene Stiamo facendo due pezzi per quintetto Stiamo facendo un pezzo per gruppo grande, per decimino I pezzi per quintetto sono l'americano a Parigi Naturalmente la trascrizione, l'arrangiamento E anche l'arrangiamento di Carmen, di Bizet Mentre invece il pezzo per gruppo grande È la fanfara di Paul Ducat Tutti pezzi conosciutissimi Musica piacevole Speriamo di far bene Speriamo di far bene